Siamo molto legati al sughero perché per noi il sughero rappresenta un forte legame con la nostra tradizione perché consente evidentemente alla qualità del vino di preservarsi e quindi è assolutamente per noi un aspetto fondamentale, siamo assolutamente convinti di continuare a utilizzare i tappi di sughero e soprattutto su alcuni vini li riteniamo fondamentali, noi abbiamo sui vini più importanti evidentemente continueremo a utilizzare il sughero. Grazie.